fammi uscire non posso fare sti prego non posso dobbiamo contenere l'infezione apre questa porta del ghiaccio fammi uscire a very strange enchanted they said he wondered very far very far over Ma ne è sicuro, comandante? Che vuoi dire? Che cazzo ci sarà là fuori? Ancora! Grazie a tutti